Il Gargano è in particolare Vieste al centro dei traffici internazionali di droga dall'Italia all'Albania. E' quanto emerso nell'operazione Coast to Coast portata a termine dagli agenti della scuola mobile di Foggia e del commissariato di Manfredonia che hanno arrestato 13 persone tra Manfredonia, Cerignola, Monte Sant'Angelo, Sansevero e Barletta. Le mafie di Capitanate, ha commentato il procuratore di Bari Giuseppe Volpe, nel corso della conferenza stampa rischiano di distruggere l'economia di una delle località balneari più belle d'Italia, appunto Vieste. Il blitz ha evidenziato ancora una volta l'intenso narcotraffico dall'Albania alle coste pugliesi. Lungo le coste e dalle tre province del distretto, Bari, Batte e Foggia, sono state sequestrate negli ultimi due anni circa 12 tonnellate di droga e si ritiene che molti carichi ne siano sfuggiti ai controlli. Fra gli episodi più significativi avvenuti nel corso delle indagini partite nel 2014, c'è anche il sequestro a bordo di un natante nelle acque territoriali di oltre 1000 kg di marijuana con il conseguente arresto dei due conducenti dell'imbarcazione provenienti dalle coste albanesi, Ciro del Bravo, 48 anni, di Manfredonia, e Ismail Secu, albanese, di 26 anni. L'organizzazione, lo ricordiamo, avrebbe voluto far sbarcare la droga in una insennatura di Vieste. E la scelta del centro garganico, secondo la DDA, è il sintomo di un tentativo di infiltrazione della mafia e di tutte le attività del territorio, da quelle illecite del turismo a quelle illecite del traffico di stupefacenti. E nel corso della conferenza stampa, dalla magistratura, è giunto l'ennesimo appello ai cittadini a collaborare, denunciando per salvare l'economia di un intero territorio, come quello del Gargano.